Nuovo riconoscimento a destra e al suo presidente Francesco Macri, che è stato nominato vicepresidente di Utilitalia. È la federazione che riunisce le aziende di acqua, ambiente, energia elettrica e gas, nata dalla fusione di Feder Utility e Feder Ambiente. Rappresenta 500 soggetti con 90.000 addetti e con un valore della produzione pari a 38 miliardi di euro. Questo sistema è un punto di riferimento essenziale per i cittadini. Fornisce acqua all'80% della popolazione, servizi ambientali al 55%, gas al 30% ed energia elettrica al 15%. La nomina giunge in un momento molto particolare sia per estra che per il sistema delle aziende e dei servizi pubblici, commenta Francesco Macri. Con il convegno che sarà ospitato all'Arezzo Fiere e Congressi l'11 di luglio, proporremo nuove idee e nuove strategie per costruire una stagione nuova non solo per le nostre aziende ma soprattutto per i cittadini e i comuni. Questa nomina rafforzerà il mio impegno in Utilitalia per l'intero sistema delle aziende a capitale pubblico nella sua funzione e vocazione al servizio dei cittadini.